Salve a tutti ragazzi, sono Inferno86 e sono qui oggi per fare un video verità. Questo video verità durerà poco, ma tratterà argomenti molto importanti della mia vita. Io ragazzi, nella live di ieri ho mostrato la faccia come la sto mostrando ora. Ho uscito la faccia perché prima di tutto avevo caldo e stavo morendo di caldo, non ce la facevo più, mi girava la testa. Siccome la maschera mi impedisce di respirare bene e mi fa studare tantissimo, comunque con questo caldo è molto difficile fare video con la maschera. Ho sopportato fino a un certo punto e ora non ce l'ho fatta più. E anche perché voglio bloccare tutti i commenti negativi che hanno fatto sulla mia persona, sul mio canale, sul mio modo di essere. Ragazzi, io sono un ragazzo come tanti. Sì, io ho 31 anni, sono disoccupato, vivo in un paese sperduto in montagna, non c'è niente da fare, non c'è alternative, non ci sono divertimenti. Quindi ho deciso di creare un canale per fare un qualcosa che piace a me e che potesse piacere a voi. Ho visto che comunque tanti si sono iscritti perché gli piaccio come youtuber per i contenuti che faccio, per come mi comporto. Lasciate perdere le parolacce, tutte quelle cose lì perché comunque ogni youtuber di Youtube Italia dice parolacce. Quindi non sono l'unico, è inutile che mi scrivete i commenti, ah dici parolacce, smettila di qua e di là. Perché tutti quelli che voi seguite da Favij a CiccioGamer a tutti quelli che volete dicono parolacce. Quindi ragazzi, evitate di scrivere questi commenti, insulti che non servono a niente. Un'altra cosa, ho voluto uscire la faccia perché io non sono un omicida, non sono un pedofilo, non sono un frocio, non sono tutte le brutte parole che mi avete detto. Ma sono un ragazzo normale, tranquillissimo, tranquillissimo magari è un parolone, che ha deciso di creare un canale per divertimento e non per essere soggetto a delle persone ignoranti o delle persone che comunque non hanno niente da fare tutto il giorno. E allora devono venire nei video del mio canale a scrivere dei commenti che non hanno né capo né coda. Cioè scrivere cattiverie veramente di tutti i colori, mi hanno detto di tutti i colori. Hanno mandato nel mio gruppo Telegram, hanno fatto account fasulli solo per scoprirmi. Ci sono persone che ho nominato in passato, che hanno mandato una mia foto che hanno trovato su Google+, una mia foto di quattro anni fa quando facevo palestra, credendo che mi avrebbero rovinato. Ragazzi, io non so se voi sapete cosa vuol dire fare lo youtuber. Fare lo youtuber vuol dire aprire il cuore e l'anima con tutti i suoi iscritti. Lo youtuber è un lavoro, è un hobby, è un divertimento. Perché lavoro? Perché comunque porta via molto tempo della giornata. Quindi se uno ha un lavoro che non glielo permette di fare, lo youtuber non lo fa. Io che ho la vita diciamo un po' spenta, nel senso che comunque non ho un lavoro, sono disoccupato. Quindi non avendo un lavoro ho la vita più libera, in poche parole. Posso permettermi di fare magari più video, più live, più cose. Sono un po' limitato perché ho una connessione wifi che fa abbastanza pena. Quindi adesso appena mi metteranno a DSL farò un upgrade al mio canale, quindi farò cose in più. Però comunque ragazzi ho portato dei contenuti tipo Last Day on Heart Survival, che comunque è un bel gioco e ha attirato molti iscritti. Ho portato giochi che magari tanti di voi non hanno neanche guardato ma sono in anteprima mondiale. Ho portato comunque alcune serie di giochi che girano da tempo su Youtube, ma comunque sono dei bei giochi. Ho cercato di portare un qualcosa che attirasse la gente, attirasse le persone, attirasse i miei veri infernali. Le vere persone che mi seguono non solamente perché porto la maschera o perché aspettavano i 2100 iscritti, i 2001 iscritti per far uscire la faccia. Solamente le persone che credevano veramente in me e penso che non tutti ma la maggior parte siano così. Quindi voglio dire anche un'altra cosa, se vi siete iscritti solamente così tanto per fare ragazzi potete anche disiscrivervi, tanto a me non mi interessa. Io gli iscritti li farò lo stesso, le persone che mi seguono li troverò lo stesso, quindi il problema non c'è. Potete fare quello che volete, faccio anche un appello a tutti quelli che mi hanno minacciato di morte, io ti vengo a trovare, ti vengo a prendere. Ragazzi sono qua, avete visto? Fatevi lo screenshot, andate in giro per ogni paese della Sicilia a dire lo conosci, lo conosci, lo conosci. Quando mi trovate venite qua, facciamo a faccia a faccia e vediamo chi rimane in piedi per ultimo. Visto che tanti di voi mi hanno minacciato di morte, io ti prendo a botte, vengo, ti gonfio la faccia. Mi hanno detti tutti i colori ragazzi, solamente perché magari mi hanno fatto un torto, li ho cacciati dal mio gruppo e si sono permessi di minacciarmi di morte. Veramente, persone inutili che non hanno né testa né coda, proprio persone insulse, insulse, proprio mamma mia. E niente ragazzi, io questo video l'ho fatto più che altro per farvi vedere che io non ho paura di uscire la mia faccia. L'ho fatta uscire nella live di ieri sera, la faccio uscire anche adesso e il mio problema non c'è. Sono un bel ragazzo, me lo dicono in tanti, avrò un po' i capelli del cazzo, il barbone, ma comunque non sono un brutto ragazzo. Non mi nascondo perché sono deformato, o perché sono un cesso, o perché sono un omicida, o tutte le cose che mi avete detto. Ragazzi, sono un semplice ragazzo che ha voluto fare qualcosa di diverso. Se vi piace bene, se non vi piace, sono solo cavoli vostri. E niente ragazzi, io spero che molti di voi mi continuino a seguire, molti di voi si iscriveranno ancora al mio canale. Vi dico una cosa che ho detto ieri, sto cercando una intro e un outro che spiega quello che faccio. Quindi io apro da ieri sera, ma lo riapro anche oggi, un contest per chi mi fa la intro e la outro più fantasiosa, con più effetti speciali, con musiche che pompano, che spaccano, però che dicono quello che faccio. Quindi dovete mettere le frasi che ci sono nella mia intro attuale. Quindi Inferno86, videogameplay, Android, iOS e PC, live e altro ancora. Tutte queste cose qua ragazzi, dovete metterli. Voglio la vostra fantasia, voglio che mi create un qualcosa che... Non lo so, mi... Qualcosa che spiega come sono io in realtà. Inferno86, qualcosa con le fiamme, musica che spacca, che pompa, effetti speciali strani. Fate voi. La mia email, sapete dove trovarla. Io ve la lascerò in descrizione del video, perché così almeno potete mandarmi i vostri lavori. Io al vincitore che mi farà l'intro migliore, l'intro e l'outro ragazzi, quindi tutte e due, non solamente una. Se ha un canale, lo sponsorizzerò per dieci miei video. E invece chi non ha un canale, lo saluterò in dieci miei video. E niente ragazzi, detto questo, spero che mi seguirete ancora. Spero che questo messaggio vi faccia capire che comunque non ho niente da nascondere. Non sono tutti gli aggettivi che mi hanno dato. Vi ripeto, sono un ragazzo normalissimo che ha deciso di fare un qualcosa di diverso su YouTube. Quindi niente ragazzi, spero che vi abbia chiarito un pochettino di perplessità, di dubbi. Se avete domande, se avete qualsiasi tipo di domanda, scrivetemi sotto i commenti di questo video. E niente, saluto come sempre tutti i miei infernali. Vi ricordo di spolliciare prima o dopo i miei video, non fa differenza, basta che spolliciate, condividete tutti i miei video. E niente ragazzi, chiedervi come sempre, vi ringrazio per la visione del video. E vi ricordo di mettermi un mi piace e di iscrivervi al mio canale. Ciao a tutti dal vostro Inferno86, alla prossima!